Celebrata a Udine è la festa di ogni santi con le cerimonie civili e religiose a cui ha partecipato in rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessore Gea Arcella. La giornata di sole atipica rispetto al periodo ha invogliato la gente a disertare in parte gli eventi. Tornando al programma, alle 11 si è svolto un breve e intenso momento organizzato dagli alpini del gruppo Udine Est presso il cippo dedicato alle penne nere all'Aipacco, dove al termine è stata deposta una corona d'alloro al monumento in ricordo di tutti i veci andati avanti e accolti nel paradiso di Cantore. Successivamente una corona d'alloro deposta al monumento che ricorda il sacrificio della divisione Acqui in via Cefalonia. Alle 11.30 la messa solenne nella chiesa di San Gottardo a chiudere questa prima giornata che rientra nel programma e che ha visto il corteo uscire dal luogo di culto per depositare una corona d'alloro al monumento ai caduti che è stato eretto nel parco adiacente all'edificio ecclesiastico. Nella giornata di domani sono previsti due in particolare irizi organizzate dalla sezione Alpini dei Rizi e Ampi presso la lapide ai caduti della Grande Guerra posizionata alla scuola elementare Fruc e successivamente al monumento ai martiri della Resistenza presso il cimitero. In rappresentanza del comune l'assessore alla cultura Federico Pirone. Alle 18.30 Santa Messa alla chiesa di San Marco in Chiavris in memoria dei defunti. L'evento è a cura del gruppo alpini Udine Nord. Con la partecipazione dell'assessore alla salute ed equità sociale Stefano Gasparin.